Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Se almeno una volta avete avuto la necessità di effettuare una piccola o grande modifica ad una o più immagini digitali sul computer o su un dispositivo senza voler o poter installare un programma specifico, questo videocorso fa per voi perché andremo a vedere come si utilizza un formidabile applicativo web, cioè Fotopea con il ph iniziale, sito di riferimento photopea.com. Accediamo con un comune browser. A chi ha un pochettino di dimestichezza con applicativi simili potrà ricordare il formidabile programma open source a base di software libero GIMP o GIMP che dir si voglia, che quello sì va installato ed è multipiattaforma, cioè per tutti i sistemi operativi su un computer. Tuttavia guardiamo quanto riusciamo già a fare con Fotopea. Allora si presenta in inglese al primo accesso ma è pur vero che cliccando sul pulsantino more, quindi fammi vedere di più in alto, andando su language e scorrendo con un click rendiamo i menu di questa web app in lingua italiana. Guardate la rapidità anche di utilizzo. Clicco su apri da computer perché vado a selezionare dal mio dispositivo una immagine. In questo caso io mi ero preparato. Eccola qui. Una immagine tratta da Pixabay, formidabile risorsa per prelevare e scaricare dalla rete immagini libere dal diritto d'autore. Ne parlo sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Ripeto Pixabay, è scritto Pixabay con la Y. Guardate questa è una immagine neutra che io sono andato ad aprire. Cosa posso fare su questa immagine? Beh per esempio cliccando in alto su immagine posso andare su aggiustamenti e posso andare a cliccare su curve. Le curve di colore sono una classica funzionalità tipica da applicativo per la grafica digitale. Se io per esempio pizzico, cioè tengo premuto il tasto sinistro del mouse grosso modo in metà, vedete, e agisco sulla curva verso il basso verso l'alto, riesco in realtà in un unico passaggio, guardate come diventa suggestiva questa immagine, a modificare le curve di colore appunto. In sintesi, in un unico passaggio vado a intervenire su luminosità, contrasto ed altri elementi. Vado ora a cliccare su ok. Vi mostro anche che cliccando sempre su immagine è possibile in verità ottenere il tono automatico, il contrasto automatico, il colore automatico. Se andiamo ad esempio ancora su filtro, abbiamo poi la possibilità, ecco questo per dirci che non è Instagram in senso stretto ad avere inventato i filtri, poiché i filtri fotografici li troviamo da tempo e così si sono sempre chiamati. Se io per esempio voglio prendere questa foto ed applicare un effetto pixel, guardate, vado su effetto pixel, clicco su mosaico e voilà, la foto diviene pixelata e abbiamo quindi scoperto come noi potremmo prendere una foto con i volti di minori ad esempio e con la modalità pixelatura al mosaico andare a coprire i tratti che li rendano identificabili. Dopodiché andiamo a cliccare su ok. Non ci resta dunque che andare a esportare la nostra immagine. Per scaricare la nostra immagine la procedura è semplicissima. Guardate, noi possiamo infatti posizionarci addirittura sul pulsante PNG con tanto di freccia verso il basso che ci invita già a scaricare. Oppure ancora vi faccio vedere che andando su archivio, che per noi vale come file, abbiamo la possibilità di posizionarci su esporta come e di cliccare poi su PNG o su JBL. Ricordo che quando andiamo ad esportare una immagine, il formato JPEG è il formato compresso, si dice, quindi che garantisce un buon equilibrio tra peso e qualità, più diffuso. Ma è pur vero che per ottenere una maggiore qualità in visualizzazione ed in fase di stampa è preferibile scegliere la modalità PNG. È persino possibile, rapidamente, andare a scegliere il formato PDF, ottenendo così un'ulteriore variante di questa immagine. Guardate, un clic su PNG, non appena abbiamo cliccato ci viene naturalmente chiesta, beh, conferma della risoluzione, larghezza e altezza. Guardate con un clic o sganciando la catena, oppure lasciandola così com'è, o cliccando vi mostro all'interno delle caselle, io potrei andare a variare, in questo caso, le dimensioni ancora di larghezza ed altezza. Potrei persino scalare, si dice questa immagine. Se invece mi soddisfa così com'è, vado a cliccare su salva, mi viene chiesto, ecco a mo' di conferma dove salvare questa immagine. Io la salvo in questo caso nei download, vado a cliccare su salva e l'immagine è immediatamente esportata. Vi ripeto, è bastato disporre di una buona, non diciamo elevata, di elevata qualità, diciamo di una buona connessione ad internet. Ed abbiamo lavorato assolutamente in una maniera lineare, semplice. A sinistra abbiamo ulteriori e raffinati strumenti per il ritocco digitale delle immagini. Questo pulsante, vedete, ve lo mostro anche in camera, no? Che ormai conoscerete per via dei dispositivi mobili, è il pulsante di ritaglio, ad esempio, dell'immagine. La, hop là, la vado a illuminare, la bacchetta magica, nuovamente, è un pulsante tipico, peculiare, di nuovo, del ritocco digitale delle immagini, così come il pulsante T, vado a cliccare ora su strumento font, guardate, io vado a posizionarmi sulla immagine, ho inserito sostanzialmente una casella di testo all'interno della quale posso andare a scrivere. Eccoci qua, vedete? Dimensione 24 pixel, io sposto un interruttorino, ed ho inserito un testo sulla mia immagine, con questa facilità. Ebbene, lascio a voi la prova pratica su strada di fotopea con il PH, e sperando come sempre di esservi stato utile, vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso, dunque un caro saluto a tutti e a tutte voi da Andrea Cartotto. Ciao!